Ciao, qui è Francesco Bellomo, il fondatore del programma Rivoluzionario Scommessa Intelligente, il programma che permette a qualunque individuo, purché abbia superato l'età o compiuto l'età di 18 anni, di potersi creare uno più guadagni ricorrenti investendo nelle scommesse, attraverso la formula scommessa intelligente. Ed in questo video voglio analizzare insieme a te, sotto un punto di vista bettistico, la squadra italiana della Roma. Bene, se non mi conosci, il mio nome è Francesco Bellomo e sono un riprogrammatore mentale, emotivo e comportamentale, oltre ad essere uno scommettitore e uno sports trader intelligente, una persona normale, comune e semplice che non fa altro che trasformare semplici numeri in profitto. In questo video, come puoi vedere, ti sto mostrando in realtà un database, uno dei miei tanti database che io, il mio team e anche tutti i ragazzi che fanno parte del programma Scommessa Intelligente utilizzano e hanno a disposizione. E una cosa molto molto importante che voglio dirti e voglio mostrarti in questo video in realtà è come spesso le nostre idee si differenziano totalmente da quella che è una realtà, una realtà numerica se vediamo e valutiamo ovviamente una squadra sotto un punto di vista bettistico. Bene, ti educo un po' a un database. Un database in realtà cos'è? Un database è un insieme di dati registrati, ovviamente fatto in un modo affidabile perché ci sono tantissimi database, però io ritengo che l'affidabilità di un database sia fondamentale a maggior ragione nel momento in cui si decide di utilizzare il database o di interrogarlo per potersi creare delle strategie di lavoro, ok? Dunque delle bettate, dei sistemi, io li chiamo intersezioni, ok? Una cosa molto molto importante che voglio dirti, se la prima volta che stai vedendo in realtà un database in realtà ti sembra un qualcosa di strano e assurdo, bene, voglio educarti a questo perché se vuoi in realtà ottenere dei profitti importanti sotto un punto di vista bettistico, ti consiglio vivamente di costruirtene uno. Nella mia serie gratuita di coaching, video serie gratuita di coaching Scommessa Intelligente, ti mostro tutto questo e ti insegno e ti mostro in realtà come farlo dalla Z, se non avessi ancora avuto l'opportunità di iscriverti, ti consiglio vivamente di farlo al più presto perché non so per quanto tempo lascerò quei video disponibili, vai su www.scommessintelligente.com e goditi la video serie di coaching rivoluzionaria realmente in questo mondo, ok? Bene, adesso ti educo un po' a questo database. Questo database in realtà è un database che è stato costruito dal 2012-2013 sino al 16-17, dunque sino all'ultimo campionato che si è concluso nel 2016-2017 e ovviamente continuerà ad essere aggiornato man mano che i campionati adesso riprenderanno. Questo database è costruito ed è stato creato basandosi su quattro maggiori campionati europei che sono Bundesliga, la Premier League, la primera divisione in Spagna e la Serie A in Italia. Poi qui vedi altre colonne, c'è la data dell'incontro, l'orario di quando si è disputato l'incontro, la squadra che giocava in casa, la squadra che giocava in trasferta. Poi qui passiamo ad una parte numerica, ok? Qui iniziamo tra virgolette ad abbandonare quello che può essere una parte informativa riguardo a anno, campionato, data, orario, squadra e ci spostiamo ad una parte numerica, ok? Dunque questa è la seconda parte di un database, la seconda fase, quella numerica, dove in realtà si prendono in considerazione le quote del bookmaker, in questo caso sono le quote di Betfair. Consiglio vivamente ed insegno a prendere le quote nello stesso giorno e nella stessa ora, perché per costruire un database valido hai necessità di prendere un riferimento, prendere a riferimento un bookmaker, prendere le quote da quel bookmaker stesso giorno, stessa ora, per tutto il resto della tua vita. Devi diventare fedelissimo, devi sposarti con un bookmaker e in realtà poi devi crearti un modello statistico, dunque devi imparare a calcolarti le quote, ti insegno come farlo o in qualche video che puoi vedere su YouTube o su qualche altro mio social, forse su Facebook, official Francesco Bellomo, oppure scrivi Francesco Bellomo, secondo me sia intelligente, in realtà ti appariranno un bel po' di risultati. O altrimenti puoi, come ti ho detto, partecipare in modo completamente gratuito alla videoserie di coaching, scommesse intelligente, perché nel secondo video ti mostro in realtà come fare e come costruirti anche tu il tuo modello di calcolo statistico, ok? Dunque crearti un modello di calcolo statistico, crearti un modello statistico, è fondamentale se nel lungo termine vuoi fare profitto attraverso questi investimenti, dunque investendo nelle scommesse. Poi qui in realtà c'è un'altra piccola parte che è anche informativa, dove c'è il risultato finale, l'esito finale e qui se c'è una squadra neopromossa che giochi in casa o meno. E poi qui c'è l'ultima parte di un database che è la parte del risultato, dunque in questa parte in realtà cosa si fa? Questo è un database molto ma molto importante, questa è una delle parti più importanti di un database. In realtà si aggiorna, dunque non facciamo altro che aggiornare il database, indipendentemente dalle nostre bettate che si vanno a fare, ma aggiorniamo il database con i risultati, dunque simuliamo in realtà i risultati su ogni esito. Dunque in questo caso il database ci dice che se avessimo puntato su tutti gli uno, questa è la colonia degli uno, avremmo ottenuto ad oggi meno 142,16 point. Dunque se avessimo bettato su tutti gli uno di tutti questi quattro campionati, sempre, avremmo bettato su tutti gli uno in tutte queste partite, a distanza di 5 anni avremmo perso 142,16 point. Stessa cosa sulla X, ne avremmo persi molti di più, stessa cosa sul 2, dunque sulla squadra fuori casa, ok? Questo ti fa capire in realtà quanto affidabile possa essere e quanto ben concentrato e ben creato possa essere l'algoritmo che il bookmaker crea e ti mette a disposizione, a suo vantaggio in realtà, no? Bene, però ovviamente come scommettitore intelligente puoi utilizzare le quote del bookmaker, compararle con il tuo modello statistico e ottenere dei risultati importanti, dei risultati evidenti. Il database è fondamentale perché puoi interrogarlo, diventa come il tuo bancomat, io lo chiamo bancomat, ok? Insegno questo nei miei seminari, se avrai la possibilità di partecipare ad uno, a qualcuno oppure avrai avuto già la possibilità di partecipare, ricorderai come chiamo e come mostro questo database o più database come dei bancomat in realtà, perché puoi trasformare numeri in profitto interrogando quello che è il tuo database e crearti le tue strategie, i tuoi guadagni ricorrenti. Bene, oggi voglio analizzare insieme a te, sotto un punto di vista abbettistico, la Roma. Dunque, la Roma è una delle poche squadre che negli ultimi anni in realtà ha preso un po' di forze, è diventata una squadra più importante, che nel momento in cui avessimo puntato sulla Roma ogni partita dal 2012-2013 ad oggi, quando la Roma, tutte le volte che la Roma avesse giocato in casa, avremmo portato a casa 7,16 point di profitto con un 7,5% di ROI, dunque di ritorno sull'investimento, su 95 bettate fatte. Ora, quello che è fondamentale, ovviamente non voglio dirti di bettare su ogni partita, voglio soltanto analizzare la Roma a livello di risultato, ok? Però la cosa importante e il fine di questo video è farti capire in realtà tante volte quella che è la nostra realtà, la nostra realtà come si differenzia dalla realtà reale, perché in realtà uno pensa alla Roma, una squadra forte e la maggior parte delle scommesse vengono fatte su sensazione e opinione, dunque tendenzialmente la Roma la si betta in realtà quando magari la quota è inferiore a 1,50, 1,60 e se io interrogo il mio database e dico ma tutte le volte che era a Roma avevo una quota di 1,60 a scendere in casa, magari se avessi bettato sulla Roma tutte le volte che avessi avuto una quota di 1,60 a scendere, cosa avrei ottenuto? E il database mi dice bene Francesco avresti ottenuto un meno 3,5 point di loss, dunque significa che se avessimo bettato 100 euro a partita avremmo ottenuto a distanza di 5 anni su 63 bettate fatte un meno 350 euro. Questo è per farti capire in realtà che la maggior parte delle volte bettare a quote da 1,50 a scendere, da 1,60 a scendere solo ed esclusivamente così senza avere un riferimento statistico a livello di valore, senza avere un modello statistico che viene confrontato con il bookmaker è pura follia perché nel tempo non ti porta struttissimo e ne entra nessuna parte. La cosa strana in realtà è se invece avessimo fatto l'opposto, dunque avessimo preso in considerazione tutte le volte che la Roma in casa avesse avuto una quota da 1,6 a salire, ovviamente quote prese da Betfair, i risultati sarebbero stati ancora migliori, avremmo ottenuto un 9,66 point di profitto. Adesso se interrogo il database inserendo anche il mio valore, dunque inserisco il mio valore, dico ma tutte le volte che la Roma giocava in casa con una quota di 1,60 a salire, se prendevo in considerazione solo le bettate quando la Roma avesse avuto un valore maggiore di o uguale a meno 10, dunque aumentato di un po' il ROI avrei aumentato ancora di più il profitto. Dunque questo è per farti capire in realtà quanto importante sia costruirti un tuo modello statistico, compararlo e lavorarci sopra, ok? Dunque questo è un step molto ma molto importante. Adesso cancelliamo questi filtri perché voglio mostrarti in realtà un qualcosa di molto ma molto importante. Vediamo in realtà se avessimo preso in considerazione la Roma con tutte le quote da 1,60 a scendere e avremmo avremmo avessimo deciso di lavorare sul valore della x e sul valore del 2, ok? Dunque facciamo finta che decidiamo qui di mettere un valore sulla x maggiore di uguale al 5%, bene cosa succede? Succede che in realtà avrei ottenuto profitto puntando la x e profitto puntando il 2. Dunque questo ti fa capire in realtà come è possibile lavorare su dei valori combinandoli in realtà attraverso un database e crearti le tue strategie, ok? Adesso analizziamo velocemente l'aroma fuori casa, ok? Dunque cancelliamo questi filtri, andiamo qui e interroghiamo il database prendendo in considerazione l'aroma fuori casa. Dunque prendiamo l'aroma fuori casa velocemente. Bene, prendo l'aroma fuori casa. L'aroma fuori casa mi avrebbe portato dei point di profitto. Ovviamente se avessi bettato sulla roma fuori casa tutte le volte che la quota fosse stata minore di 1,6 avrei ottenuto un profitto ma inferiore. Dunque questo è per farti capire in realtà che spesso le squadre favorite in realtà nascondono dietro quelle quote non proprio tante cose positive, ok? Questa è una cosa molto molto importante. Bene, se invece andiamo ad analizzare l'aroma fuori casa, prendendo in considerazione anche quelli che possono essere i nostri valori, dunque mettendo al lavoro il nostro modello statistico, interrogo e gli dico in modo logico, gli dico al database di lavorare su questi valori. Dico, ma senti una cosa, se io prendo in considerazione, se io avessi preso in considerazione tutte le volte delle squadre che avessero avuto una quota tra 2 e 4 e il valore, il valore è anche la quota della X, magari fosse stata compresa tra 4 e 7. Che cosa sarebbe accaduto? Il database mi dice, avresti ottenuto un 3,72 point di profitto o altrimenti se avessi preso in considerazione soltanto tutti gli incontri quando la quota di casa, la squadra di casa avessi avuto una quota decimata tra 2 e 4, avrei ottenuto un po' di point in più sulla Roma, ok? Se invece analizzo adesso la Roma, dunque dico, ma tutte le volte che la Roma ha giocato fuori casa con una quota tra 2 e 4 e il valore, il valore, il valore del 2 era, mettiamo, maggiore di uguale a meno 5. Che cosa avrei ottenuto? Avrei ottenuto addirittura più profitto, avrei fatto 15 point e 30 con un 80% di ROI. Dunque questa è l'importanza di poter sfruttare in realtà un database, di poter lavorare sul tuo modello statistico e ottenere dei risultati molto molto importanti. Ti puoi sbizzarrire in realtà come vuoi, perché è un altro step molto molto importante. Ti sto dando in realtà delle strategie in questo momento, ovviamente valutale, ci sono tante cose in più che si devono fare, però sono strategie sostenibili. Qui faccio un altro esempio, se prendi in considerazione tutte le volte che la quota della X era comprensa tra 4 e 7, in realtà il valore sull'1 era maggiore di uguale a 0. Dunque avrei bettato sull'1 tutte le volte che ci fosse stato un valore positivo da 0 a salire. Dunque alla fine avrei ottenuto 6,90 point anche sull'1. Dunque alla fine tra la Roma fuori casa con l'intersezione di prima e quella di adesso avrei ottenuto circa 23-24 point nell'arco di 5 anni totalmente diversi rispetto a dei numeri basati soltanto su opinione o sensazione. Dunque in questo video cosa ho voluto mostrarti? Ho voluto mostrarti in realtà che non devi bettare solo ed esclusivamente su opinione o sensazione, non farlo mai più. Inizia a costruirti un tuo database e soprattutto poi impara a lavorare sul database. Un database non lo costruisci da un giorno all'altro a meno che non lo acquisti da qualche parte ma devi vedere anche la validità e l'affidabilità del database che ti viene dato. Il database lo acquisisci se ci lavori o se ti iscrivi al programma scommesso intelligente ti metto questo database a tua completa disposizione. Però sappi che è una cosa fondamentale se vuoi arrivare ad ottenere dei grandi risultati e vuoi crearti uno o più guadagni ricorrenti attraverso l'investimento nelle scommesse. Bene, che dirti? L'unica cosa che voglio dirti adesso è se ti è piaciuto questo video condividilo, lavora su quello che ti ho detto, rifletti attentamente su tutto ciò che ti ho mostrato e ti ho detto. Moturabilmente può darsi che andrai in dissonanza cognitiva perché magari stai vedendo delle cose che non credevi neanche che potessero esistere. Bene, perché questo in realtà se serve per renderti libero e renderti non più schiavo di questo mondo così macabro come viene descritto le scommesse, ben venga perché dietro questo mondo in realtà oggi c'è una grandissima opportunità ed è quella di crearti uno o più guadagni ricorrenti imparando ad investire nelle scommesse, imparando a scommettere in modo intelligente. Questo te lo permette di fare la formula scommessa intelligente. Ti consiglio ovviamente ad andare su scommesseintelligente.com, goderti la video serie di video gratuita di coaching, alzare il tuo livello di consapevolezza in un modo davvero importante e poi ne parliamo. Qui è Francesco Bellomo e grazie, ciao!